Qual è la finalità dell'iniziativa che voi portate avanti, che avete ribattezzato il weekend del buon governo? Nasce dal voler creare una o due giorni in cui parteciperanno diversi esponenti della politica, delle realtà associative territoriali, ma anche esponenti della cultura, tra cui, per esempio, ottimi relatori, un nome fra tutti, il professore di storia contemporanea dell'Università di Catania, il professore Barone, proprio per far sì che dai problemi nascenti nelle realtà locali si trovino le soluzioni. Quindi è quello di creare uno scambio di idee, un brainstorming, come lo definirebbe Eugenio Catania, in modo tale da poter trovare le soluzioni che oggi la classe politica del territoriale non riesce a trovare e quindi portarle poi all'interno delle nostre realtà territoriali. Lo scambio di idee avverrà, come dicevo prima, in una o due giorni, che sarà tenuta presso la sede della Camera di Commercio di Ragusa il sabato 14, e domenica 15, invece, presso il prestigioso Palazzo Grimaldi di Modica. Un vero e proprio laboratorio politico e amministrativo, se vogliamo. Sì, nell'occasione io avrò l'onore di rappresentare la città di Gela e l'associazione Renovazio che ha sponsorizzato il mio intervento sulla crisi dell'area industriale gelese, che sono già dei lavori disponibili online su alcuni siti testati locali e misto con un lavoro che già è stato effettuato presso l'Università di Cantabria, in Spagna, sulla rigenerazione urbana di Bilbao, per fare capire gli esempi delle politiche di buon governo europei con la situazione attuale gelese.